Ciao, sono Silvia Zoya, Trainer Nei in Onyx Academy. Ho il piacere di comunicarti all'uscita del mio nuovo corso dedicato alla decorazione delle unghie, dal titolo Come effettuare una decorazione 3D in acrilico. Come te sono appassionata di beauty e di decorazione unghie, adoro insegnare e rendere le mie clienti bellissime con mani perfette ed eleganti. Dopo anni di esperienze in questo settore ho imparato che uno degli aspetti più importanti del nostro lavoro e poter offrire alle clienti qualcosa di diverso dalla semplice stesura colore per farle sentire più speciali e uniche. Una delle tecniche più richieste in questo momento, soprattutto delle persone che non vogliono passare inosservate, è la decorazione 3D in acrilico. Grazie a questa tecnica potrai distinguerti e permettere a te e alle tue clienti di tirare fuori tutta la vostra creatività. Scoprirai tutti i segreti per effettuare una decorazione in 3D, ti mostrerò i passaggi, come eseguirli nel modo corretto e potrai rivederli tutte le volte che vuoi per toglierti ogni dubbio. Ti aspetto per scoprire insieme tutti i segreti per effettuare una decorazione 3D. Ci vediamo online!